Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, sindaco capitale della cultura 24, giubileo 2025, come si deve organizzare il territorio? Si deve organizzare sulla scena di quello che è già fatto in questi ultimi anni, creando quella rete di intenti e di idealità per poi proiettarla nel nostro biennio successivo, che è il 24 e il 25. Ecco, si deve organizzare in maniera più sistematica, cioè aprire un tavolo in cui tutti gli attori, i protagonisti di questo sviluppo, possano trovare l'interconnessione con la realtà locale, che sono eccellenze che devono essere messe insieme per un potenziale di sviluppo elevatissimo. San Giovanni Rotondo con San Pio, tra i grandi santuari internazionali, come si prepara? Si prepara soprattutto con un sistema di accoglienza e di possibilità di arrivo in maniera comoda, moderna e efficiente, ed è la prima cosa, ma poi soprattutto dal punto di vista della propria identità culturale intorno al Santo, che è la vera molla che poi spinge milioni di pellegrini ad arrivare qui, a San Giovanni Rotondo e sul Gargano in generale.